buona giornata amici di fano tv bentrovati bentrovati alla rassegna stampa sono le sette del mattino poco più oggi è sabato 4 marzo 2023 e subito salutiamo l'ospite di questa settimana abbiamo con noi alessandro brandoni che è il segretario della rega fano ciao alessandro bentrovato ben alzato anzi e grazie per la tua disponibilità per commentare le notizie del giorno ma noi passiamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo come oggi si festeggia san casimiro san casimiro era un principe polacco visse nel xvi secolo pensate invece di condurre una vita tra il lusso e i piaceri scelse quella del sacrificio e della dedizione a cristo portò il cilicio e la sua mente era continuamente fissa nel mistero della passione di gesù quindi veramente un santo ineccepibile ci ho detto passiamo alle previsioni del tempo vediamo che il tempo migliora sul nostro territorio dopo gli acquazioni dei giorni scorsi vediamo che la residua ci sarà una residua instabilità nella prima parte della giornata vediamo qui la grafica sul corriere adriatico sui settori meridionali in esaurimento però sarà meglio altrove le temperature sono stabili si aggirano tra i quattro per quanto riguarda la minima e dieci per quanto riguarda la massima i venti sulle coste spireranno da nord ovest nell'introterra da nord nord est e il mare continua a essere mosso ci sono ancora mareggiate sono però residue in merito a quelle più violente dei giorni scorsi bene ci ho detto passiamo alle notizie dei giornali vediamo subito quello che pubblica il corriere adriatico sulla pagina di fano ecco qua il titolo si parla di carnevale si parla di carnevale attraverso però una notizia che dà delle innovazioni si parla appunto di migliorare l'organizzazione non tanto complessiva della manifestazione quanto quella tecnica quella dei materiali quella dell'uso delle nuove tecnologie e proprio ieri sono stati presentati tre progetti dall'amministrazione comunale tre progetti sviluppati da altre tante aziende del territorio che verranno finanziati con 70 mila euro si tratta di innovare la movimentazione che è già automatizzata ma verrà poi valorizzata ancora con materiali intelligenti l'illuminazione sarà fatta a nascere dal dentro del carro e non in superficie e poi sarà introdotta la robotica la robotica nella movimentazione e tante altre cose soprattutto anche nell'uso dei materiali probabilmente la carta pesta verrà messa un po' in disparte così come il polisterolo e verranno introdotto dei biomateriali che sono più facilmente compatibili con l'ambiente cosa dici di tutto questo Alessandro e soprattutto qual è il tuo giudizio sull'ultima edizione del carnevale di Fano? Ma io penso che questa sia quella dei carri sia stato il tema che forse in questa edizione del carnevale ha lasciato un po' più perplessi vedendo anche quello che hanno detto gli stessi organizzatori e gli stessi carristi sia perché comunque c'è stato probabilmente un problema anche di ripartenza e un problema ma soprattutto di budget e quindi diciamo che costruire e fare dei carri più tecnologici più belli più grandi sia un aspetto fondamentale per poter poi emergere rispetto ad altri carnevali che sono a livello di Fano. Certo abbiamo visto che sono un po' spogli rispetto ai grandi carri maestosi con tanti pupi degli anni scorsi e questo ovviamente dipende dalla disponibilità del budget quindi occorrerebbe investire di più e occorrerebbe anche trovare magari più sponsor disponibili a sostenere la massima manifestazione della città di Fano. Sicuramente, sicuramente ci sono delle risorse importanti che arrivano anche dalle amministrazioni, dalla regione, dal comune ma soprattutto occorre che anche i privati facciano la loro parte, qualcuno lo sta già facendo, molto probabilmente bisogna lavorare affinché l'evento sia progressivamente sempre più bello e sempre più partecipato anche dal punto di vista dei finanziamenti. Però vediamo che i risultati, nonostante tutto, sono stati lusignieri, abbiamo avuto molte persone che sono venute anche da fuori a visitare il nostro carnevale e lo vediamo anche in questo articolo di fondo del Corriere Adriatico in quanto si parla di plein air. Camper e maschere, un binomio da 70 mila euro. Con il camping club sono state così assicurate 1500 presenze. È stato un raduno che il camping club di Fano ha organizzato nell'area dietro la stazione ferroviaria e quindi moltissimi camper sono arrivati da tutte le regioni d'Italia. 500 presenze complessive, ha detto il presidente Paolo di Ottalevi evidenziando il risultato di questo grande raduno. C'è un aspetto conflittuale nella città di Fano, Alessandro, per quanto riguarda il plein air. C'è chi si lamenta della sosta di tanti camper magari che è una sosta un po' disordinata, c'è chi nei parcheggi mette fuori gli stendini, i tavolini, c'è invece che considera il plein air una vera e propria ricchezza perché è gente che viene a Fano, che consuma e che fa turismo. Generalmente le presenze sfuggono ai consuntivi che si fanno poi a livello formale, però questa presenza c'è ed è costante. Cosa ne pensi? Io a questo tema mi sono sempre interessato per diverse ragioni e penso che il camperismo sia una risorsa, ma che non può essere trattato come è stato fatto a Fano negli ultimi, non ne dico negli ultimi anni, negli ultimi decenni, dove sostanzialmente esiste un solo spazio attrezzato, attrezzato tra l'altro anche male al momento, e questo spazio diventa alla fine un'area di sosta non per chi viene a Fano, ma per chi magari si deve appoggiare un attimo a Fano, anzi in passato abbiamo avuto anche dei momenti in cui diventava un campo rom. Quindi quell'area lì andrebbe migliorata, magari andrebbero create delle altre aree in cui chi viene a Fano con il camper può sostare per più giorni, viene registrato, gli vengono promosse delle iniziative, perché molto spesso quello che mi è capitato è che i turisti a Fano non sanno neanche che cosa c'è Fano, una volta uno mi ha chiesto dove era il centro, dove erano i monumenti principali e risiedeva in un albergo, quindi non era neanche fuori da una struttura. Quindi è necessaria una regolamentazione per fare in modo che i camperisti trovino i servizi, il comune possa in qualche modo anche riscuotere una tassa di soggiorno magari per questi servizi che vengono dati. I residenti non si trovano di altre zone, non si trovano problemi di parcheggio, di decoro, di ordine pubblico e quindi c'è la possibilità di avere un compromesso, di trovare una soluzione per tutti, non ultimo anche per gli esercenti del settore turistico, di chi ha i camping che giustamente fa presente che ci sono delle situazioni che non sono a norma. Bisogna intervenire in modo particolare in zona mare dove spesso i parcheggi vengono trasformati in campeggi e lì ovviamente non essendoci poi i servizi la situazione diventa insostenibile. Esatto, esatto, ci sono delle zone che poi diventano, sono veramente anche brutte a vedersi come la zona diciamo lì del bersaglio, del cavalcavia che diventa una specie di campo nomadi ma anche se in realtà non sono rom. Benissimo, passiamo ad un altro argomento, passiamo ad un altro argomento, quello delle mese scolastiche. Ebbene Fano si sta distinguendo, anzi diciamo che è da un po' che si sta distinguendo per la qualità dei cibi che vengono osserviti a scuola nelle mese scolastiche. Quindi sono i bambini, quelli più piccoli, che vengono indirizzati ad un'alimentazione più salutistica, ad una educazione alimentare che altrimenti non avrebbe i suoi effetti perché i bambini sono più attratti a cibi più gustosi. Ebbene in questo caso invece vengono così indotti a mangiare dei cibi veramente salutari, quelli che fanno bene non solo così, sono piacevoli ma anche interferiscono sulla salute. Per il menu della scuola Fano fa il bis, dice oggi il Corriere Adriatico, riconquistato il primo posto in Italia. Ebbene abbiamo veramente un vertice che supera dei capoluoghi di provincia come Parma, come Cremona, insomma sono veramente città che hanno fatto dell'educazione alimentare una loro bandiera ma fanno le ha superati. Pensi che questo è un veramente privilegio della nostra città? Io penso che... O ci sono dei difetti, insomma? Io da genitore di due bambini che hanno usufruito e stanno usufruendo della mensa scolastica penso che sicuramente è opportuno educare i bambini all'alimentazione, all'alimentazione corretta, variegata e quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Però penso anche che magari ci sia un poco equilibrio magari tra le scelte. È vero che teoricamente questi menu li fanno li fanno i nutrizionisti. Però vedo anche che purtroppo i bambini, visto che viene fatta una riportistica, vedo anche che i bambini molto spesso, gran parte del pranzo non lo consumano e va sprecato. Quindi bisognerebbe cercare un po' più di equilibrio. Poi le classifiche si sa, le fa... questi tipi di classifiche perlomeno sono arbitrarie o comunque magari hanno dei parametri che non tengono conto di tutti gli aspetti che possono riguardare l'alimentazione e la mensa. Sì certo, conciliare il gusto e poi... Quindi ecco, dobbiamo cercare... questa può essere una strada giusta, però secondo me bisogna iniziare a tener conto anche di quanti... con un'analisi precisa e puntuale anche di quanti sono i consumi reali di questi pasti. Perché se poi uno va a vedere quello che ha mangiato il proprio figlio o gli altri bambini, perché poi io ho un background statistico, vado a vedere se quando capita che ritiro la bambina dall'asilo, vado a vedere che l'80% dei bambini poi non ha consumato il pranzo. Questo può diventare un problema altrettanto grave per l'alimentazione. Vediamo cosa mangiano i bambini a scuola, i nostri figli a scuola. Lo evidenzia appunto questo articolo del Corriere Adriatico. Allora abbiamo passatelli integrali, maltagliati in brodo, tagliatelle al ragù di lenticchie, riso rosa con la barbabietola, pasta con verdura e curcuma. Ebbene il Comune di Fano si è anche distinto per la utilizzazione di uno strumento di calcolo della carbon photoprint dei piatti che ha portato a modificare alcune ricette per ridurne anche l'impatto sull'ambiente. Quindi si tengono in considerazione anche diversi aspetti. Comunque mangiare le tagliatelle al ragù di lenticchie, insomma, bisogna veramente abituarci invece a mangiare un bel ragù alla bolognese come di solito, oppure con un buon sugo di pesce come di solito abbiamo a Fano. Ma a proposito di menù, voglio farvi vedere un articolo che appare sulla pagina in fondo del Corriere Adriatico ed è questo. Fano gastronomica nel piatto dell'Adriatico. È un'iniziativa questa dell'assessorato al turismo che è stata presentata nella giornata di ieri. Fano gastronomica, se ne è parlato anche nei giorni scorsi, sta per partire. Ebbene ci saranno dieci serate in diversi dieci ristoranti della nostra città che si sono impegnati a servire menù con pesce pescato dalla flotta peschereccia dell'Adriatico, quindi a chilometri zero, possiamo così definirlo, invece di pesce di importazione oppure che viene anche da altre località italiane come per esempio dal mare Tirreno. Questo per valorizzare insomma anche i ristoranti della nostra città ma per fare della enogastronomia una forza d'attrazione per il nostro turismo. Alessandro. Sì, sì, è un'iniziativa importante che sicuramente aiuta la promozione del nostro pescato che è assolutamente di altissima qualità e che aiuterà anche gli esercenti, i ristoratori a lavorare magari in un periodo dell'anno in cui a cavallo diciamo tra la Pasqua e l'estate dove magari si si fa un po' più di fatica ancora e quindi una bella iniziativa sicuramente. Benissimo, andiamo avanti e vediamo che ieri, ieri è stato un giorno veramente di tante presentazioni, è stato presentato anche la nuova edizione di Letteraria, siamo alla decima edizione, un concorso che ha fatto dei progressi enormi salendo da livello locale a livello nazionale tanto che è uno dei concorsi preferiti dalle più grandi case editrici della nostra Italia, del nostro territorio. Ebbene, sono affluite quest'anno 122 opere, sono di autori italiani 74, 48 sono di autori stranieri di cui ci sono anche due premi Nobel. Sono stati particolarmente apprezzata questa iniziativa dai traduttori che vengono invitati a Fano, quindi ci sono anche le opere straniere che vengono valorizzate. L'importante è che tutta la giuria che decide l'esito del concorso è formata da 1100 studenti che sono dislocati in tutte le scuole superiori del nostro territorio. Letteraria, come passaggi, Alessandro, sono due grandi iniziative che valorizzano Fano? Sicuramente Fano, ci pensavo proprio ieri su un altro tema, ha una vivacità culturale molto associativa, molto elevata. Sono iniziative importanti, specialmente passaggi che abbiamo visto, che ha portato nel tempo tantissime e tantissime persone, presenze a Fano, iniziative che vanno valorizzate perché comunque ci contraddistinguono rispetto al territorio, ad altre città. Quindi benvengano queste cose e benvenga tutto l'aiuto possibile che le amministrazioni possono darvi. Ed ora passiamo alla cronaca, perché vediamo una notizia che riguarda Fossombrone, che è interessante, ma che ci dà la possibilità di parlare un po' del degrado e dell'aspetto sociale anche di tutte le città del nostro territorio. Vediamo il titolo. Caccia all'anziano per impaurirlo. È l'ultima bravata delle baby gang di Fossombrone. Agguati in strada, insulti e sfottò. Siamo spaventati, abbiamo detto, ai carabinieri. Ebbene, quello che sta accadendo nella città metaurense è un escalation di piccoli vandalismi, di scorribande, di spregio delle cose che appartengono alla comunità. L'ultima vigliaccata è spaventare gli anziani, sbeffeggiarli, affrontarli in gruppo quando sono soli. Queste le nuove frontiere delle bravate giovanili che però spaventano per davvero. Ebbene, al nostro territorio, sia a Fano che a Pesaro, adesso anche a Fossombrone, anche a Urbino, insomma, le bravate dei ragazzi che sono piccoli, perché sono 14, 15, 16 anni, quindi sono minorenni, che si incamminano su una strada molto pericolosa, Alessandro. L'ordine pubblico è un problema per tutto il territorio? L'ordine pubblico è un problema. È un problema perché comunque nel tempo, diciamo che per diverse vicissitudini, i controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto per la carenza del personale, sono sempre via via più ridotti. Dall'altro comunque c'è anche il tema che questi episodi di microcriminalità o comunque vandalismi, prepotenze, derivano anche da una deriva non culturale, ma una deriva educativa rispetto a un passato. Io dico sempre che una volta, una volta, tanto siamo stati giovani tutti, quando combinavamo qualcosa c'erano gli schiaffoni che arrivavano, o dei genitori, dai parenti, qualche volta arrivavano anche dai vicini di casa e nessuno dagli insegnanti perché era così. E nessuno si lamentava e alla fine forse capivi quali erano le cose giuste da fare. Adesso c'è una deriva purtroppo dove vediamo anche la televisione, tutto è consentito, gesti anche eclatanti, vengono difesi, questo buonismo che sicuramente non aiuta i ragazzi giovani a capire quelli che sono i valori, quelli che sono il senso delle cose che possono fare. Per cui se combiniamo l'effetto di un territorio che viene sempre meno controllato e questa deriva educativa purtroppo vediamo che nascono questi episodi, quindi bisogna lavorare. Adesso non dobbiamo tornare indietro per quello che riguarda la coercizione fisica, però dobbiamo lavorare di più con questi giovani per trasmettere quelle che sono le cose giuste da fare. Ci sono due aspetti in questa notizia pubblicata oggi appunto sul giornale. Più recentemente le mamme hanno segnalato baby gang che hanno tentato di bullizzare i ragazzini, dall'altra parte invece sono quelli che hanno degli sfottoni nei confronti degli anziani. Ma qual è la composizione sociale del nostro territorio? Lo vediamo qua sul resto del Carlino. Vediamo che specialmente per quanto riguarda Fano i residenti sono in aumento, si implementa un pochino di più la popolazione dopo la perdita di tutto il comparto di Marotta, le nascite però calano, calano a picco. Spuntano dati curiosi dell'ufficio anagrafe, crescono i single, 71% della popolazione e diminuiscono le famiglie. La popolazione straniera si attesta sulle 4.085 unità. I più giovani a sposarsi nel 2019 sono stati due diciannovenni, sono invece 42.512 gli abitanti non ancora accoppiati, su 60.000 sono veramente un'enormità. E soprattutto l'invecchiamento della popolazione, Alessandro, richiede ancora di più un interesse speciale per i servizi sociali. Siamo pronti a sostenere questa trasformazione dell'aspetto sociale del territorio? Allora, siamo pronti? In questo momento non siamo pronti perché dal punto di vista delle strutture abbiamo una grave carenza. Il piano sociosanitario e il piano sanitario, anche attraverso l'accordo di programma che fu siglato nel 2018, prevedono la realizzazione di alcune strutture dedicate agli anziani. Perché comunque sono delle strutture e delle cose da portare avanti assolutamente e anche in fretta. Perché abbiamo, credo, dati che mi dicevano qualche giorno fa, un indice di anzianità che tenda a due. Cioè abbiamo un rapporto doppio tra gli anziani, persone che superano una certa età e i giovani. Per cui questa carenza sarà nel futuro sempre più grande. Quindi sono necessarie delle risposte immediate, delle risposte che siano per tutti. Perché si parlava poco tempo fa del Vittorio Colonna che potrebbe diventare una struttura, una residenza, diciamo, di un certo tipo, cioè con un certo tipo di servizi, di qualità, ma anche di costi. Per cui non è una struttura dedicata a tutti. Il tema riguarda veramente però tutti, anche chi magari non ha le risorse per affrontarlo e da questo punto di vista sicuramente è necessario che le amministrazioni quindi si facciano vicine. Sì, a testimonianza di quanto tu hai detto. Vediamo qui un sommarietto pubblicato dal Carlino. Nel 2019 sono venuti alla luce 379 bambini, mentre i decessi sono stati 590. I numeri di una società che sta cambiando. Quindi c'è veramente un trend negativo. Ed ora parliamo della difesa del territorio. Parliamo della difesa del territorio perché sul giornale troviamo una denuncia per quello che sta accadendo sul fiume Metauro verso il comune di Colli al Metauro. Vediamo in questa fotografia molto molto significativa come una diga di tronchi si è addossata al ponte che attraversa il fiume. Cresce la paura tra i residenti per le condizioni della struttura sul Metauro tra Villanova e Calcinelli. Intervenite al più presto. Questo è un articolo. Sempre sullo stesso argomento interviene anche il Corriere Adriatico perché c'è invece un intervento per quanto riguarda la Zilla, messa in sicurezza della Zilla. Ci sono i fondi. C'è un progetto di 100 mila euro che ha stanziato l'amministrazione comunale e l'ha presentato l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori che fa sì che si inizi la cura e la manutenzione di tutto il torrente. Questo in collaborazione con le ferrovie dello Stato. Abbiamo due aspetti problematici. Qua si comincia ad intervenire dopo magari molto tempo in cui la Zilla ha suscitato dei problemi e qua invece il problema esiste ancora. Dobbiamo sicuramente lavorare di più su questo tema. Ci sono state adesso anche delle leggi importanti che sono state fatte per quello che riguarda la pulizia dei fiumi, la possibilità di poter raccogliere la legna, cosa che non veniva più fatta, che sicuramente è una delle problematiche maggiori, soprattutto per i piccoli corsi che non vengono seguiti perché poi magari è anche complesso dal punto di vista, è onoroso sul territorio, è un territorio spesso molto vasto, intervenire. Quindi era un'attività che una volta era delegata ai privati, che tornerà tra virgolette tornerà ai privati, che sicuramente potrà aiutare. Poi ci servono anche delle risorse pubbliche però comunque nei corsi maggiori per regimentare anche quello che potrebbe essere il regime stesso, il corso stesso dei fiumi perché abbiamo visto che passiamo ormai da periodi di grossa cicità a periodi in cui ci sono delle precipitazioni molto molto abbondanti e quindi dobbiamo da una parte evitare che succedano danni e dall'altra avere la possibilità di in qualche modo, nel modo possibile poi saranno gli esperti a dire come, di trattenere quest'acqua quando arriva. E per fortuna Fano può avverersi di un sostegno molto molto importante da tutto il volontariato della protezione civile che interviene sempre prontamente quando accadono questi allagamenti. Polemiche sulla tassa per disabili. Tinti, Presidente d'Ambito, Assessore al Comune di Fano per il welfare di comunità, applicato un regolamento. C'è stata una protesta nei giorni scorsi di una mamma che si è vista arrivare una richiesta per quanto riguarda l'Ise perché doveva pagare parte del costo del trasporto tra Fano e un centro di Colli al Metauro. Siamo quasi in conclusione, quindi un commento rapidissimo su questo problema che purtroppo lo impone la legge, però insomma la legge è discutibile. Le leggi sono discutibili, io penso che bisogna sempre avere una sensibilità verso chi ha queste tematiche che sono fondamentali perché chi le trova come questa mamma che ci si ritrova a vivere da tanto tempo, vive anche la propria vita veramente con difficoltà e anche se magari sono, anche le amministrazioni hanno le loro difficoltà perché poi questo è un provvedimento che riguarda tutto l'ambito, quindi non riguarda solo il comune di Fano, però bisogna cercare magari di possibilmente risparmiare risorse altrove dove magari non sono necessarie e dedicarle ad aiutare queste persone che magari si trovano più in difficoltà. Ebbene concludiamo con una notizia di sport, visse l'esame con la prima di Paola torna a pieno regime per quanto riguarda appunto il fine settimana, mentre l'alma è in preda a un incubo. Lascia pure il team manager Storoni, lascia pure il team manager Storoni, questo è il senso dell'articolo, in una lettera scrive purtroppo ultimamente si è rotto il feeling e qualcuno mi ha fatto scemare quella passione. Insomma sono diversi ormai gli esponenti dirigenziali che stanno lasciando la squadra, però Russo tiene. E questo è tutto per il momento, Massimo Foghetti vi saluto, vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7, ringrazio Alessandro Brandoni per la nostra compagnia e vi auguro una buona giornata a risentirci.